Più di qualsiasi manifestazione di protesta o documentazione fotografica sono le immagini dell'assessore regionale e trasporti Giandonato Morra che si ribalta con la sua carrozzina mentre cerca di salire su uno scivolo per disabili realizzato lungo la strada parco a testimoniare come l'arteria pubblica dove transiterà, lo ricordiamo, la metropolitana leggera sia pericolosa, inaccessibile ai disabili e realizzata peraltro senza rispettare la normativa nazionale ed europea in materia. Non mi faccio dire cose tecniche, voi sapete benissimo che questa è un'altra delle cose fra virgolette all'italiana, tenete presente che questo è un appalto iniziato nel 2005 poi bloccato, poi è andato avanti con tante difficoltà, voi sapete in questo momento c'è stata anche la problematica risolta dal punto di vista penale, ci sono accavallate più cose, cerchiamo di risolvere i problemi che ci sono, ripeto, io sono qui a disposizione, non mi nascondo dietro un dito, tutte le cose che si potranno migliorare nella possibilità si dovranno fare.